1-1 la semifinale d'andata tutta teramana tra Colonia Paese e Mosciano, gara intensa, forse un po' nervosa ma bella nella prima frazione, assolutamente noiosa nella ripresa, quando l'espulsione di Cocca sul finil di primo tempo ha paradossalmente condizionato più il Mosciano che i padroni di casa. La cronaca neanche il tempo di sistemarsi in campo che al primo affondo il Colonia Paese, sono passati 90 secondi, sorprende gli ospiti e Gian Sante che dal limite fredda Di Giammatteo nell'angolo più lontano, 1-0. Il Mosciano accusa il colpo, prova subito a reagire ma porge il fianco alle veloci ripartenze locali. Nella fase centrale del tempo l'intensità offensiva giallo-rosa però si fa più forte e continua e culmina al 28esimo con il pareggio, merito della caparbietà di Cappelli che sul fondo serve l'assist perfetto a Puglia, deviazione secca che vale l'1-1. Sulle ali dell'entusiasmo il Mosciano prova a pungere ancora ma è l'espulsione di Cocca, forse ingenua sulla ripresa del gioco veloce di Beni, secondo giallo al 40esimo, a guastare il finale di frazione dei padroni di casa. Nonostante il buon avvio, Rechiuti che vola a sventare la punizione ben calciata da Beni e la conclusione al volo ma centrale da fuori area di Zanetti, la ripresa tradirà le aspettative. Nonostante la superiorità numerica, il Mosciano assume un atteggiamento stranamente attendista, aspettando chissà quale occasione che l'accorto Colonia-Paese non concede mai. Anzi, la squadra di Ronci, dopo aver cercato di pungere in contropiede, nel finale è andata anche in forcing, seppur senza successo. Alla fine pari giusto e passaggio in finale che si deciderà nel return match di Mosciano, con i giallorossi che potranno sempre contare su due risultati. Penso che oggi sia stata una bellissima partita, ha giocato due buonissime squadre e il Mosciano ha confermato di essere una squadra veramente forte, anche perché noi siamo partiti bene e abbiamo fatto gol. Loro alla prima vera occasione, quando noi abbiamo fatto un errore difensivo e loro sono stati bravi a capitalizzare al massimo quella situazione. Poi l'espulsione, secondo me, ha rovinato una partita bellissima. Io penso che oggi tutte e due le squadre hanno onorato il calcio e hanno fatto una bellissima figura. L'Albero, secondo me, non l'ha fatta oggi una bella figura. Non è una reazione del primo tempo, ma francamente nella ripresa con l'uomo in più ci si aspettava di più dal Mosciano. Sì, in effetti potevamo fare qualcosa in più. Paradossalmente abbiamo giocato meglio in parità numerica che con l'uomo in più. Ma bisogna dare merito anche al Colonia che si sono riorganizzati, hanno lasciato un attaccante, hanno fatto densità nella loro metà campo, cercavano delle ripartenze. Noi non siamo riusciti a trovare spazi per giocare il nostro solito calcio. Comunque è stata una partita equilibrata tra due degne protagoniste di questi playoff. La sarà altrettanto all'andata. Bisogna lottare e sudare perché loro sono un'ottima squadra.